musica io provo a vedere come salire ora mi crolla tutta sopra no non c'è la gravità si lo so sto scherzando io non vedo un cazzo è troppo scura sta a fare vabbè come hai detto tu sfruttiamo tutta però sta solo entrata scommetto dobbiamo dobbiamo ho trovato l'entrata forse è qui da qualche parte come hai detto tu sfruttiamo tutta la pietra di merda che abbiamo raccogliato vieni qua sopra dove sei aspetta vedi dove sono io mi vedi si eh qua io non ti vedo a te qui dietro sopra ah ecco solo che io un reno maiala sto affinando le torce allora l'entrata secondo i miei calcoli mi hai fatto paura a zombie di merda qua 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 su l'entrata ok ora sfruttiamo la pietra ok adesso è il momento di girare armati parecchio anche perché qui ci stanno dei mostri che tappiccano la maledizione la maledizione aspetta che metto delle torcine in giro qui per farci luce ce l'abbiamo fatta ragazzi abbiamo trovato la potenza finalmente dove sei qua c'è il giro oh le verghe si le verruche prendile ci saranno per fare le pozioni ok inizio a prenderle prendile tutte tanto ti c'è anche la soul sand quindi allora no aspetta facciamo prima tutto il piano sotto e dopo eh si 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 eh vabbè come l'hanno detto vabbè saliamo ormai ok ecco li sento il rumore e c'è anche il ghast merda si 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 arriva appena capisco dove sei arrivo qua ecco ah ok ci servono le tue frecce se eh se saresti così gentile da darmele cioè dammi l'arco e una freccia cioè l'arco e le frecce eh prendi l'arco e vai con le frecce aspetta che ti do anche l'altro arco che quello sta per cadere a pezzi vai minchia fatto pelo l'ho potenziato via ciao ciao attento passambassi che cosa stai tentando oh cazzo hai capito no eh si direi proprio marto merda oh merda oh ecco il blaze non so se ci ha droppato però la dov'è il blaze ma è quel coso lì ah merda non so se però ci ha droppato la lacrima di ghast io non l'ho vista vabbè si prenderà in un secondo momento oh cazzo eh attento che questi qui non hanno pietà eh già morto si aspetta aspetta che ora troviamo il suo spawn e ci ammazzeranno di botte cazzo vuole sto qua c'è no è una forte è una piazzetta questa oh cazzo qua si scende dove? qua nella piazzetta c'è una scarinata per scendere non ti vedo più sono dietro la piazzetta ecco e dove si scende che non c'è nulla? qua 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 girati metto luce eh oh qua c'è qualcosa di sicuro vieni si dovrebbe trovare anche merda gli scheletri eh sì la virina allora aspetta io perlustro velocemente questo corridoio però aspetta che stima devo mangiare ci dobbiamo trovare anche gli scheletri qua allora facciamo un corridoio alla volta chiuso ok non c'è niente sto facendo un attimo retromarcia ok passiamo al prossimo qui eh qua c'è da ah eccolo eccolo grande non lo distruggere non lo distruggere resta fermo ci serve come farming ora appena appaiono li massacriamo di botte vai vai si sono arrivati due di corpo nel fuoco mi chiamano ah due occhio oh non ne droppate più mi raccomando eh stronzi oh oh ne sono apparti tre eh distruggere eh distruggere oh vieni combatti eh non c'ho la fermata bloccata mi sta caricando ok fatto ottimo lavoro vaffanculo squirt oh 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 ma che sei matto ne dobbiamo trovare altri che dei teschi no ah beh aspetta un attimo vado a vedere se più avanti ce ne sono altri eh certo a me mi lascio da solo con questi eh eh no tranquillo tanto qui ancora non capisco cosa sia ah no è un neutro qui la fortezza sembra finita aspetta che controllo oh merda dove sei andato a sparire vengo anch'io c'è un'altra galleria parallela aspetta che vengo a prenderti qua di qua che c'è un cazzo no là c'è un cazzo qua c'è un altro corridoio aspetta che metto la luce eh ci sono i neutri c'è un cazzo qui parca puttana no è chiuso è chiuso ho trovato un spawn di blaze siamo anche arrivati in cima credo no dai io direi di prendere tutto quello che serve per fare per evocare il tizio là che dice eh ma strano non ci stanno gli scarcity non so perché oh una cazzo qua c'è una cazzo guarda che c'è corazza d'oro armatura a ferro per cavallo questa la voglio io cazzo prenderei una cazzo prenderei una cazzo prenderei una cazzo spada oro lingotto d'oro vabbè il verugane è perché ne siamo secchi qua non c'è niente oh cazzo eccolo 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 cosa eccolo? lo scheletro stanno qui vieni ma tanto che qui ti appopano la maledizione qui ci stanno tanti mi servo aiuto oh questo qui non ci dovrebbe stare qua ha dato qualcosa? mi ha dato il carbone cosa il carbone? mi ha dato del carbone del potetissimo carbone ma perché? oh un altro chest dove? oro e e merda oh la cosa più utile che si è trovato finora è la cazzo 6 sento qua è chiuso sei sicuro? sento dei fatti qua è aperto ah no aspetta qua c'è il pericolo casato da libre mi sa che devo andare un attimo sul tetto si andiamo andiamo sento il rumore di di agici ecco infatti magma cube si però mi devi dire dove sei devi seguire la colonna rossa la devi rompere giustamente questi stronzi non hanno droppato un cazzo eh pari stronzi qui c'è un'altra chest lingotti un'altra salla per cavallo no giusto due ce ne servono però la tengo io ma ciarino vai per sicurezza eh ma dai siamo fuori oh scappa 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 eh scappa merda va uno l'ho ucciso cioè tutti e due l'ho ucciso tanta vita scia mi hanno lasciato una pepita d'oro eh vieni a vedere ce l'ho messo io apposta perché faceva fumo oh cazzo che è eh lo stronzo eh questo te l'ha dato l'ho visto no ma va ce n'è un altro ce n'è un altro c'ho la vita tipo scrimi un attimo che devo comunque è qui che si trovano questi stronzi va qui c'è un altro occhio qua non lo danno quello quel teschio di merda qua che è oh oh un altro guarda guarda un po' nell'inventario se ti è andato qualcosa eh un attimo devo prima merda no niente eccolo 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 ahia strunzo oh forse ho trovato qualcosa guarda un po' no mi ha dato altro carbone ma porco carbone qua ce n'è uno vai sì a pottona dammi la scena ma sciapoluscola eh carbone aspetta uno me l'ha dato io non ce l'abbiamo ottimo guarda che figata oh ottimo che mi stanno prendo che ci stanno facendo guarda che figata come hai visto come hai visto meno uno ora ce ne servono altri due ma ce ne servono tre in generale o tre a testa tre in generale oh guarda un po' si guarda eh falla via che cazzo asciuga tutto tu mappu tu mappu tu ma zingara fidi di che cazzo oh no oh mio dio oh mio dio pezzo di merda rischi a ti cascar nella lava e ti cascar di sotto bastardo oddio maiale di merda oddio mi devo riprendere ho visto di po' tutto che andava giù ho pensato ecco è finita è finita oh oh è rotto il cazzo ma perché non ti fa una vita maiale di merda nartro nartro piovono sti maiali cazzo piovono no 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 tu vai via andate a fanculo oh no 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 marcaputta no ho perso la spada ahah non ti ho detto non ti ho detto maiali oh no oh no oh no dio vedi di no di strelli che sto finendo al muro te la spadina io sto andando con la spadina d'oro oh me oh me ehi alero la cosa che è successo ho notato che però questo pietra qui resistente all'esplosione guarda oh rispedisce al militante cazzo figlio di puttana oh da lì c'è una cascata di lava che prima non avevamo visto o sbaglio? già sono scarbo ma ce n'è un altro? ce n'è un altro figlio oh merda distrailo mentre io faccio la scala distrailo? ok aspetta ho finito i colpi eh 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 ehi ti metti lì allora questo così ok no vai non so più da finire ma vediamo un'altra cosa ok 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 qui così 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 ma te stai cercando di scalare un monte di là? stavo con il lello oh figlio di puttana morto l'hai fatto eh perché ho giocato a tennis oh c'è la lacrima di ghast eh l'hai vista l'hai presa? presa passala anche a me? mi dà l'archivio tieni vai eh eh ok oh non mi dà niente dammi l'archivio dammi l'archivio vabbè tienila eh non la perdere e tocca andarla a prendere che c'è un bel maiale laggiù? oh no ma guarda lì però tocca trovare un modo di andarle a prendere dunque vediamo qua noi abbiamo fatto qua noi abbiamo fatto il cosa così di là scendere la lava qua loro stanno aggrappati quindi se quella lava cazzo se quella lava fosse acqua cazzo sto perdendo vita merda porca vacca no ecco bella ragazzi siamo riusciti a prendere tutti e tre i teschi abbiamo fatto un taglio brutale perché già per trovarne una come avete visto ci abbiamo messo un'eternità e sarebbe stato noioso far vedere tutto il procedimento siamo morti malissimo ventimila volte infatti c'è rimasto poco o niente del robame le diciassette azze rappresentano la fatica di quegli scheriti di merda questa attima sta prendendo abbergate nei denti che cazzo sta facendo direi di trovare la strada di casa prima di fare una brutta fine si e lui ride ma abbiamo riscatto di brutto vieni qui dove sei? dove cazzo è questo? ho già perso sta black no mountain non ha più da mangiare io si pensa tu dove sei? c'è qualcosa da mangiare? devo rispondere ok come si c'è? andiamo adesso piccone ora dove era l'uscita? ora dove era l'uscita? oh era dietro a sta scala oh c'è un altro scala era dietro la scala eh qua vieni aia tu tu lasciali perci eh no io glielo avevo detto sto arrivando eh eh sto tranquillo riportami riportami tu lì al villaggio eh no devo venire a te e poi te le trasportami al portale ok prendi tutto allora eh chissà che cazzo ho fatto di una vez brigati brigati cazzo mi colo cazzo ok chio questa qui ce la siamo parata di brutto ma solo perché non si trovava più la via di casa ma basta che ah ti ho visto a parire ora ci sei? si si io me ne vado da qui fa come tu cosa? vado e devi rimanere devi rimanere qui che cazzo fa? se il gust colpisce il portale lo sai vero che si distrugge se cosa? se il gust per disgrazia colpisce il portale odio pensare bestemmine è successo come è successo? mi è successo e lì che hai fatto? eh 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 immagina puoi ma senza fine proprio eh corri a letto che è notte corri al cazzo di letto e mentre le trasporta da lui come succedeva su Fiat3 non è possibile allora abbiamo preso quello che ci serve ma vaffanculo non voglio poi sentire i palazzi zomi fino a domani corri a letto corri a letto è abbizzito mi sono abbizzito di colpo che si chiedeva su tutto professionale che tornava a casa col cubetto in mano ti sei girato e hai visto sto dubbio che tra l'altro sono ancora qua questo fa fama carena ora oh vieni a bruciare strozzo più brucia oh ma hai te a posto tutte le verghe tutti i sandidio che per prendere quel merdaio ci abbiamo messo un'eternità metto nella cesta che si metti tutto lì e vabbè questa è stata l'esilorante puntata di avventure nel nether adesso abbiamo tutto il materiale per fare a lui sa cosa quindi eh eh vai quindi nella prossima puntata nella prossima puntata che si farà faremo tutto ciò che ci serve per le pozioni torniamo un attimo in miniera a prendere qualche diamante qualche oddio come si chiama qualche qualche pezzo d'ossidiana per fare il tavolo degli incantesimi abbiamo le tre teste per evocare il wither ma lo evocheremo parecchi più avanti perché non siamo ancora pronti abbiamo rischiato le penne solo per trovare quei tre teschi di merda immagina solo che combattere quel mostro per cazzo e adesso mentre aspettiamo che starback 95 si accorga primo che la casa sta andando in fiamme secondo me perché sta andando in fiamme cosa succede perché? guarda avanti devo dire la terza persona ma perché sta andando in fiamme? ma che cazzo sei un piramide? ci hanno scappellato a casa ok e questo se ne è corto ora io vi saluto mentre aspettiamo che si ricordi anche che il portale è ancora aperto e molti li possono passare ma questo è un problema che fino a che giorno aiutami a spengere il fan posso far andare con questo vi saluto vi salutiamo iscrivetevi a entrambi i canali mettetevi guardatelo sul tempo ha preso poco ancora non si spegge sto poco di merda e con questo al prossimo video un piccolo fuoco ciao 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 ciao